ciao sono il salutatore ti volevo chiedere un saluto per tutti i due fan che ti seguono da sempre ciao un super saluto qua mi ha preso così al volo in contropiede tu sei straordinaria e sei sempre fantastica e sei molto bella è una sorpresa per te ho la manina del salutatore grande ciao ciao